Ma che male c'è se gli chiedo dei soldi? Il dato di fatto è che tu da oggi mi devi restituire 90 mila euro. Ma com'è potuto succedere? Com'è successo? Mi hai presi 50. Più il tasso di interesse del 60% a settimana. La matematica nell'opinione fa 90. Non ce n'abbiamo un po' di tempo, li vogliono subito. Te e tuo marito fai i segnali di i sordi dell'arte. Qua stiamo parlando di usura? Io sto parlando di un'onesta attività finanziaria mutata al profitto. E basta. Dal 3 luglio al cinema.